A seguire, la prima gara del Chaos Tour! I nuovi piloti affronteranno i piloti d'elite, la crema dell'automobilismo mondiale per la prima volta. Sarà una grande sfida. Come lavorare con te, Gary? Specchio ripresso. E se te lo spaccassi in testa? Drill Beat, Skid Plate e Wild Card sono l'elite contro cui dovranno gareggiare i contendenti. Un altro aggiornamento. La bottega della macchia di mamma ha riaperto il miglior negozio di vernici di Mod Nation. Per qualcuno è la fine dei kart crema e celestino. Per qualcuno è la fine dei kart crema e celestino. Grazie, Gary. Se ricapita, sorridi mentre li sfasci. Come è la visuale da lì dietro? Mi piaceva l'unno scontro da piccolino. Che cosa ci starebbe proprio bene? Un turno! Mi staggara non si vince, si travolti! Bravo! Mi staggara non si vince, non si vince. E' così che facciamo noi di solito. Bella scia. Devo venire io a premere il tasto. Usa quel turbo. Diro, diro. E' ora di far vedere a quei piloti cosa può fare il tuo calendoscopio. Turbo! Ora ci sia. Bella verba. Facciamo vedere a quegli spollonati un vero pilota. Usa quel turbo. Fagli vedere le stesse. Sì, neanche a me piaceva questa roba. La prossima volta ti metterò nel disco. Ah, adoro l'onore della distruzione armatista. Ah, adoro l'onore della distruzione armatista. Piloti, runcfialgia via! quel tipo ti darà la caccia sono niente che vuol dire vincere quella gente turbo bene col piccino di nuovo fermano ragazzo bravo mi sei quasi qualsiasi primo posto rendiamolo resti rigida e torna in gara ritorni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.